yuk 43 16 ciao a tutti ragazzi io sono yuk e io sono quit benvenuti in questo video ragazzi di factorio il nuovo gioco scoperto da yuk recentemente portato in italia yes siamo stati contattati da dai sviluppatori di factorio che ci hanno dato delle key per giocare all'alpha e intanto ragazzi sottofondo vedrete il video di tutto più o meno un piccolo repertorio di tutto ciò che si può fare in questo stupendo gioco a mio parere e abbiamo scoperto delle cose fantastiche appunto per questo io e quit inizieremo una nuova serie yeah come verrà svolta la serie ragazzi serie sul mio canale e serie sul canale di quit due serie separate e poche parole voi direte sì ma luca sono due serie uguali però fate le cose uguali no ragazzi perché minecraft minecraft 2 nel senso che i macchinari sono uguali ma si possono mettere in modi diversi ma impianti diversi per cui io farò una mia serie quit farà una sua serie sul suo canale per cui vi consiglio andare a guardare anche la sua serie quando inizieremo e poi voi stessi sarete voi a decidere nei commenti qual è l'impianto migliore qual è non lo so come volete voi se volete spoiler arci a vicenda perché io e quit non ci guarderemo i video tra di noi esatto sarà un po una sfida vedere chi fa le cose più fighe ci siamo sfidati ragazzi poi siccome ci sono delle cose da sbloccare ci sono delle ricerche da fare eccetera la sfida del gioco appunto cercare di sbloccare più ricerche possibile la sfida parte tra me e quit yes è ovviamente una sfida in amicizia quindi non iniziate a insultare gente a caso bravissimi ragazzi anzi bravissimo edo vuoi un po di meno ragazzi non lo so comunque sia non ci sarà un inizio una fine nel senso se io carico 20 video in un giorno un esempio qui te ne carica quattro non è che il look è più avanti di te è giusto il come si dice non ci interessa quello ragazzi è giusto per divertirci abbiamo già superato abbiamo già superato il tempo del trailer si va bene infatti ragazzi avete visto il trailer ripartire tranquilli era giusto perché non vogliamo abbandonare ogni volta iniziamo un video di a fare un video di un minuto e siamo arrivati a due esatto vabbè ragazzi comunque grazie a tutti per questo video che ci ha seguito continuate a seguirci per questa serie di factorio e ricordate minecraft non lo abbandono yeah io sì fanculo dagli hook qui te tutto ciao a tutti bye bye